Lei è Nina ed è qui oggi per il suo bagnetto. Mettiamo un prodottino nelle orecchie che ce n'ha una tra l'altro che è molto suzzina. E adesso massaggiamo e chiudiamo. Wow, ma che bella! Per lei oggi facciamo anche il bagnetto con lozono. Bagneta lozono! Bella, bella! Brava, bella! Lozono terapia aiuta tantissimo, anche per altri fattori, ma per la dermatite aiuta tantissimo a disinfiammare, a cicatrizzare, a disinfettare. È un ottimo, veramente, antibatterico naturale. E ovviamente ai nostri amici animali non fa male, anzi, ha solo tantissimi benefici. Noi ne abbiamo due tipi, abbiamo la vasca e il glumassaggio che fa la spa e la zonoterapia e anche questo che è l'acqua corrente all'ozono. Ne lo passiamo bene ovunque e via. Stiamo eseguendo sulla piccola Nina Hydra, che è uno shampoo lenitivo con estratto di lavanda. Ovviamente le proprietà calmanti e lenitive della lavanda rendono questo shampoo particolarmente adatto, indicato per cani e gatti dal manto sensibile che soffrono di prurito. Dona lucentezza al manto e contribuisce anche ad attenuare la sensazione di prurito cutaneo. Lo trovate anche questo sul mio sito, sempre di shampoo e balsamo. Adesso stiamo facendo lo shampoo, poi sciacquiamo e andiamo di balsamo. Applicato lo shampoo Hydra, applichiamo il balsamo Hydra e lo lasciamo in posa qualche minuto che faccia bene bene azione sulla pelle e sul pelo e poi risciacquiamo. Stessa cosa per lo shampoo, lo shampoo va diluito con un po' d'acqua mentre il balsamo va messo diretto puro sul cane o sul gatto. L'importante è che tutti e due li lasciamo almeno tre minuti in pausa. Magari nel mentre ecco un bel massaggino, giustonina? Brava! 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 Che paura! Che paura! Che paura! Bocci, boci! Ci asciugiamo, bello! Buon bello! Buon bello! Servo? Che paura! Che paura! calma bravo che bella siamo pronte una pazza venina si si la mamma è tornata è già da quanto tempo che non ci vediamo